Scusi? 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 Maresciolo per fortuna siete qua. Quell'uomo ha appena preso una bottiglia e se l'è messa nei pantaloni. Oh, collega, chi sei qui? La frase. Scusi? 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 Vieni qua, collega. Un momento, un momento. Un momento. Ho fatto niente io, non ho fatto niente. Ma vediamo se hai fatto niente o non hai fatto niente. Maresciallo, quest'uomo ha preso una bottiglia e se l'è messa nei pantaloni. Ah, corpo del reato. E allora? Perché hai preso questa bottiglia? Maresciallo, chiedo scusa, qui c'è scritto Brandy e io l'ho presa. Signore, io lascio. Beh, ho capito. Scusi? Siete voi che sbagliate a scrivere? Sì, sì. Scrivi, lasci e poi lasciarlo. Ma tu non Brandy è un non Brandy. Ma partare il tempo, io qua sono delinquente. Alla fine.